Sono ritornato a casa già dai primi di febbraio, poi sono stato contattato da Torrenova per poter continuare la stagione dopo aver interrotto con Alcamo, ma poi una bella notizia mi ha riportato qui a casa. È stata una settimana intensa, gli allenamenti qui sono molto duri, la società segue molto la squadra, quindi sto bene. La prima partita è andata così e così, la sconfitta dopo dieci giornate, però qui tu hai riavracciato molti dei compagni storici con i quali hai raggiunto obiettivi importanti. Per quanto riguarda Eagles, tu sei stato il primo capitano della Eagles, con stagioni importanti anche in serie di non tantissimi anni fa, in realtà due anni fa. Hai ritrovato ragazzi con i quali hai trascorso molti anni di palacanestro? Sì, sicuramente faccio il nome di Nicola Giardina, Jacopo Bruno, che con la serie D abbiamo condiviso tanto. Poi ritrovo Dario Dragna, il capitano attuale della squadra. Parlavi dell'esordio, sì, settimana scorsa a Catirno è riuscita a strapparci questa vittoria, loro hanno vinto. squadra compatta, purtroppo ci sta. Non è stato l'esordio che volevo, però è stato comunque importante ritornare in campo dopo un mese. Ad Maiora. E c'è stato anche, ho sentito chiaramente un bel boato quando hai messo il primo punto della lunetta con questa maglia. Tu hai fatto tanti anni di palacanestro, però deve essere stata una bella emozione comunque tornare a segnare con questa squadra. Sì, sicuramente la sensazione che mi mancava era appunto segnare da Aquila. Ho sbagliato un po' di tiri da sotto, facili, ma forse un po' di tensione o forse, non so, magari qualche contatto. Una piccola scusa. I tiri liberi sono una mia qualità, quindi sono riuscito a segnarli. La sensazione bella è quella di sentirsi di nuovo parte di un gruppo che va forte, quindi nonostante tutte le difficoltà in campo riusciamo a essere sempre uniti e questo l'ho visto subito. Arrivano due partite che non è giusto definire preparatorie perché sono ancora a campionato ma che sicuramente dopo una sconfitta comunque che brucia, dopo 10 vittorie consecutive, quella contro Orsa e poi si chiuderà con il Cus. Sono un bel target da mettere nel mirino, soprattutto quella di domenica qui a Bagheria contro l'Orsa a Barcellona. Non dimentichiamo che loro sono ancora in lotta per una posizione play-off, non so, però vorranno comunque fare la loro partita. Noi dobbiamo riprenderci dall'inciampo che abbiamo avuto domenica scorsa. Poi sì, si va a giocare l'ultima a Cus, lì a Catania. Loro hanno preso Murphy dall'Alfa, sicuramente saranno col coltello tra i denti. Quindi sta a noi lavorare e cercare di non demoralizzarci ma sappiamo che abbiamo il secondo posto e poi play-off per esperienza è anche esperienza comune, per chi gioca è proprio tutta un'altra storia. Vogliamo fare un appello? Sarebbe sicuramente importante che tutta la popolazione ci abbracciasse, mi venia da dire, che magari tutta la città riempisse il palazzo. Qui la struttura è veramente fantastica, ripeto. Noi ce la mettiamo tutta. Lavoriamo sempre e comunque tutti i giorni della settimana, quindi spero che poi venga apprezzato anche dal pubblico. Per i play-off, insomma, numerosissimi comunque. Vi aspettiamo! Per i play-off, insomma, numerosissimi